che quello di Nicola dov'è Nicola e lui aspetta vieni Dave a prendere Nicola ciao Nicola siamo in diretta nazionale su radio studio più sono Ugo Palmisano siamo anche in diretta televisiva su convento.it allora Nicola è arrivato il gran momento come si chiama la tua futura moglie Angela cosa sta facendo lei invece questa sera è con le amiche? si fuori con le amiche è fuori qua nel parcheggio che ti aspetta? no spero di no dopo quanti anni di fidanzamento Nicola? ah due ah due avete fatto proprio le cose veloci dai sono vecchio quindi è vecchio dai con chi sei qui con gli amici fidati quanti siete? siamo in 15 siete in 15 quindi buona serata e buon cassino per dopo va bene? grazie ancora grazie a te